Buongiorno a tutti e benvenuti al webinar di questa mattina. Il webinar a cura di Ifele Anci è parte del ciclo di seminari online dedicati alla pianificazione urbanistica e al governo del territorio. Analizza i termini e i numeri del problema del consumo del territorio esaminando le ipotesi di regolazione legislativa a livello statale, regionale, nonché nell'ambito degli strumenti di pianificazione. A parlarle con noi oggi il relatore è l'architetto Gianpaolo Messina, esperto in materia di pianificazione territoriale e urbana, con particolare riguardo al profilo normativo degli strumenti urbanistici. Buongiorno architetto Messina. Ricordo a tutti gli utenti che i materiali e la registrazione del webinar saranno pubblicati nell'area materiale didattici nella sezione documenti e pubblicazione del sito Ifele. Vi ricordo anche che durante il nostro seminario potete interagire con il nostro relatore utilizzando la chat per cui potete inviare i vostri requisiti e tutte le richieste di assistenza sia per problematiche di tipo audio o video potete segnalarle utilizzando la chat che noi abbiamo rinominato assistenza tecnica. Io non rubo altro tempo al nostro relatore, auguro a tutti un buon webinar e ben ritrovati e auguro a tutti un buon inizio di anno. Arrivederci a tutti. Prego l'avvocato, l'architetto. Buongiorno a tutti, diamo subito il via alla presentazione di oggi che riguarda un tema di sicuro interesse, dimostrato anche dal numero di iscritti all'appuntamento di oggi, che è appunto la questione del consumo di suolo e delle ipotesi, dei tentativi di regolazione di un tema di assoluta rilevanza e che ha in questo momento all'attenzione di tutti anche perché, come probabilmente sapete, o certamente sapete, in Italia in questo momento in realtà da alcuni anni si sta ipotizzando di dare una disciplina statale al tema. Il tema è un tema appunto di stretta, apparentemente di stretta attualità e non a caso la presentazione di oggi parte con una specie di rassegna delle notizie recenti, come vedete sono molto frequenti, si susseguono con grande rapidità perché appunto sull'argomento c'è moltissima attenzione ed è appunto apparentemente un argomento di stretta attualità, in realtà anche nel nostro paese la discussione può essere retrodatata almeno a un decennio fa, con le prime ipotesi di regolamentazione che venivano da ambienti, in particolare ad esempio quel filone teorico che si riunisce intorno a Edoardo Salzano, che è uno degli urbanisti più noti più noti nel nostro paese, in realtà in quel momento in Italia non c'era ancora un sistema di rilevazione, però l'interesse che maturava in quell'ambiente derivava dal fatto che in Europa almeno da un decennio precedente, anzi da due decenni precedenti, come vedremo, già a partire degli anni Ottanta, si era già sviluppata tutta una discussione che era partita dal tema della città densa, cioè rispetto al tema della sostenibilità degli insediamenti urbani. C'è un testo interessante che io personalmente possiedo, che segnalo, è sempre stato molto interessante rispetto a questo argomento, un testo del 94, appunto sulla città sostenibile, dove già, ad esempio, il tema della città densa, della densificazione urbana, vista in opposizione alla problematica dello sprawl della diffusione urbana, era già abbondantemente indagato da, appunto, circoli, chiamiamo così, di matrice ambientalista, quindi riconoscendo al tema della densità urbana invece anche una valenza in termini di preservazione dell'ambiente e della salute in generale, perché poi il tema della preservazione dell'ambiente ha dei riflessi anche proprio sulla qualità della vita e sugli effetti, diciamo, sulla salute umana. Quindi dicevo, l'espressione di consumo di suolo è diventata una locuzione sicuramente nota alla grande massa delle persone, non solo a un pubblico specialistico, ed è certamente un'espressione di qualche successo, che io accosto appunto a colata di cemento, è passata comunque nella comunicazione anche quotidiana, tuttavia appunto non è un argomento assolutamente banale, perché intorno ai tentativi di regolare il tema del consumo di suolo, in realtà si incontrano parecchie questioni. Certamente c'è l'esigenza di regolarla, ma come scrivo, al di là di questo poi c'è un disaccordo quasi totale da parte dei vari soggetti che sono interessati, ad esempio, tanto per richiamare questa questione, cioè che addirittura si discute nel nostro Paese se non debba essere una competenza del Ministero dell'Agricoltura, che di fatto è quello che ha preso l'iniziativa nel 2012, allora Ministro Catania, di legiferare sull'argomento, se debba invece essere un tema di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, perché in teoria l'assetto degli insediamenti urbani nel nostro Paese avrebbe una qualche rilevanza dal punto di vista anche delle politiche economiche, strutturali, eccetera, del Paese, pensiamo al tema delle aree metropolitane, delle città metropolitane. O invece, come sostengono altri che non sia un tema che deve essere posto in capo al Ministero dei Benicolturali, quindi indirizzando la disciplina che deve regolare il consumo di suolo sotto una sfera di tipo vincolistico, cioè analoga a quella che riguarda, che tutti ben conosciamo, ad esempio il paesaggio o che altro. E quindi quello che vi presenterò sarà, seguirà questa scansione, come ho spesso l'abitudine di fare, l'indice è più una traccia su cui poi si possono agganciare varie altre considerazioni e comunque ve lo riassimo brevemente, appunto questa parte è quella introduttiva, subito dopo presenterò la questione dei dati, delle fonti dei dati perché un primo tema che interessa rispetto all'argomento del consumo di suolo è intanto darne una definizione, vedremo che non c'è accordo neanche su questo, questo è anche abbastanza normale perché poi un conto sono le definizioni tecniche e scientifiche del fenomeno, un conto sono le definizioni di tipo regolativo o quelle che vengono poi presentate, assunte nella legislazione, questo ci sta anche, diciamo che si tratta di temi diversi, per certi versi. Il passaggio successivo è come dai dati, cioè intanto dalla definizione quantità del fenomeno si possa arrivare a una regolazione del fenomeno. Su questo, anche se non è citato, faremo riferimento a quelle che sono le esperienze europee, in particolare perché appunto in Europa del tema si è iniziato a discutere già molti anni fa e il caso più famoso poi è stato quello della Germania che a partire dall'85 ha di fatto dato il via a questo tipo di regolazione. Opzioni contenimento zero consumo, questo è un brevissimo passaggio a chiarimento che ci permette poi di passare alla sezione che riguarda le ipotesi di regolazione legislativa che vedremo, chiaramente la presentazione di oggi ha un tempo limitato, cerca di dare conto di tutta la questione senza entrare in un esame troppo approfondito di norme che per quanto riguarda la legislazione statale in realtà ancora non esistono, nel senso non sono norme vigenti e approvate, c'è una discussione, un'evoluzione probabilmente destinata a proseguire e forse non a concludersi in questa legislatura. Sulle legislazioni regionali ci sono stati una di esempi, chiaramente da quando è partita poi la discussione nel 2012 sulla norma statale alcune regioni si sono anche affrettate a legiferare, viceversa il caso che io personalmente considero più interessante, non il migliore in senso etico, ma comunque il più interessante, è precedente al disegno di legge Catania ed è la legge della Regione Marche del 2011, perché imposta la questione secondo me sotto un profilo abbastanza corretto, è una legge molto breve, di pochi articoli, molto semplice, però ha degli obiettivi perlomeno abbastanza chiari. L'ultima parte è un esempio, non sarà l'unico esempio di piano, in particolare faccio riferimento al piano territoriale di coordinamento della provincia di Roma approvato nel 2010, quindi precedentemente a tutta la discussione sulla legge statale, dove come vedremo anche il terreno della pianificazione può spendere delle parole su termini di regolazione. quello su cui sono tutti d'accordo è che certamente il suolo, almeno sono tutti d'accordo attualmente, è che il suolo è una risorsa scarsa, si è pensato che non lo fosse per qualche tempo perché ci si è accorti, perché il fenomeno è andato progredendo da una certa accelerazione a partire degli anni 60-70, ci si è accorti che mediante l'edificazione si impegnavano per cento di quote sempre maggiori di terreni in precedenza agricoli, andando chiaramente a competere su quelli che erano appunto aree, che poi invece avevano un utilizzo necessario dal punto di vista della produzione dei fondi di sostentamento. Quando si parla del consumo di suolo si parla in teoria di un fenomeno che apparentemente è reversibile, però appunto io cito l'esempio dell'area romana, è noto a tutti coloro che hanno frequentazione dell'area romana che rispetto all'insediamento romano storico si sono formati dei suoli, cioè il suolo ha ricoperto quelli che erano i terreni precedentemente interessati dall'edificazione romana antica o altri terreni, sono terreni suoli recenti che si sono formati per apporto fluviale e altri fenomeni di modificazione della costa, ma stiamo parlando di processi che come dico impiegano millenni, quindi in realtà quando si impegna un suolo a fini di edificazione lo si sottrae direi per sempre all'obiettivo invece di tipo appunto agricolo. Peraltro la sottrazione della superficie agricola non è l'unica conseguenza negativa dovuta alla perdita del suolo, perché in moltissimi casi, farò anche degli esempi, al consumo di suolo si legano l'erosione, la contaminazione proprio in termini di inquinamenti, la diminuzione della materia organica disponibile è legata appunto alla perdita del suolo, perché il suolo non è solo una superficie fisica, ma è lo spazio di pochi centimetri dove si formano tutta i sei processi che consentono lo sfruttamento agricolo, smottamenti, perdita di biodiversità, perché chiaramente andiamo a sottrarre le superfici necessarie all'espressione della vita da parte di organismi, insomma animali, vegetali, eccetera, e anche un tema che a me personalmente interessa anche parecchio, la questione della perdita di paesaggio, cioè il fatto che comunque spesso si alterano le condizioni del paesaggio storico, in genere migliori di quello che si viene a produrre successivamente. Quindi l'altro aspetto che merito a sottolineare è questo, cioè che se fino a un certo punto il suolo, la necessità di consumare il suolo era legata a fenomeni effettivamente di crescita demografica, si è osservata appunto, questo già in ambito europeo a partire dagli anni 70-80, che invece le due dinamiche, cioè quelle che sono le variazioni demografiche e l'impegno di suolo, invece hanno a un certo punto si sono divaricate, cioè si è continuato a consumare suolo in maniera sempre più accelerata anche a fronte di un dato relativo alla popolazione sostanzialmente stabile. Questo è avvenuto per vari motivi, uno degli imputati, i principali imputati è tutto quello che si è potuto generare in termini di valorizzazione della rendita, cioè era comunque conveniente realizzare edifici, interventi di trasformazione perché al di là di tutto se ne aveva un enorme vantaggio economico. L'altra conseguenza che anche in Italia è assolutamente visibile è il diffondersi di schemi insediativi a bassa densità, sia di tipo legale, sia di tipo abusivo. Citavo in una precedente comunicazione il dato di Roma, Roma per il 40% ha popolazione che è insediata in ambiti di origine abusiva, dove le tipologie prevalenti sono le villette a due piani, le palazzine a tre piani, col grande giardinetto privato, di fatto questa roba consuma in maniera estensiva territorio, in generale è legata anche a insediamenti di bassissima qualità, ci sono altre realtà nel nostro paese, penso al Veneto o a un certo area Lombardia, dove è molto diffuso il modello dell'abitazione legata all'attività produttiva retrostante, di fatto sono tutti modelli che hanno portato a un enorme consumo di suolo, tuttavia negli anni recenti la voce che incide di più, e in particolare faccio riferimento a una comunicazione che Lorenzo Bellicini, direttore del Cresme, faceva presente in un convegno organizzato dall'Ordine degli Architetti di Roma nel 2016, ma sono dati che lui chiaramente produce e divulga in più circostanze, in realtà la voce più rilevante in termini di consumo di suolo negli anni recenti, data la crisi che ha notevolmente limitato gli interventi di carattere trasformativo edilizio, è legata alla realizzazione di opere infrastrutturali, che fra l'altro in genere sono opere che richiedono proprio di per sé l'impegno di aree molto estese, parlo anche di piattaforme logistiche, aree per parcheggi, qualunque cosa, sono tutti usi che di fatto hanno una grande domanda di suolo a fronte degli obiettivi che poi delle esigenze devono soddisfare. Ripeto, il tema vorrei intanto dimostrare questo, cioè il tema per quanto se ne parli molto adesso non è nuovo, diciamo anche una sua narrazione, io cito qui il ragazzo della via Gluck di Celentano che è un brano del 66, che non vi leggo ma insomma, che tutti certamente conoscete, tuttavia se guardate l'immagine sottostante ai versi della canzone, questa è appunto via Cristoforo Gluck a Milano, rispetto a quello che stiamo dicendo, ci appare quasi una condizione abitativa, diciamo dal punto di vista delle politiche europee, quasi invidiabile, perché sicuramente stiamo parlando di un contesto piuttosto denso, in realtà attualmente il problema è di altra natura, cioè proprio la bestia nera, il fumo negli occhi è la questione del modello densitativa a bassa densità, cosiddetto SPROLE, cioè dovuto alla diffusione urbana su grandi aree di popolazione a bassissima densità, che ha portato a una competizione, un impatto su quello che è tutto il sistema della matrice ecologica ambientale, non solo come impegno diretto del suolo, ma anche come interclusione, perché uno dei problemi secondari indotti, secondari nel senso che arriva dopo, ma di assoluta rilevanza, è che il frazionamento del territorio, appunto l'interclusione delle piccole particelle, di fatto spezza quella che è la funzionalità ecologica del territorio, anche al di là dell'impegno diretto, cioè impronta dell'edificio sul terreno. Quindi la prima esigenza però che emerge da tutto questo ragionamento è che se vogliamo affrontare le possibili soluzioni al fenomeno, chiaramente il primo obiettivo è quello di conoscerlo e il dato di base è quello di arrivare a una sua determinazione quantitativa e quindi a una sua misurazione. Su questo vorrei iniziare ad introdurre alcune questioni, perché appunto c'è stata anche una polemia che mi ha visto direttamente impegnato sui social a proposito di Genova, cioè alcuni fenomeni che noi oggi registriamo, come appunto io ho citato a memoria 2015, non sono sicuro di questo, comunque l'alluvione che ha colpito Genova non era neanche la prima, c'era stato un precedente in anni recenti, per cui diciamo le acque che non avevano più la possibilità di attraversare i terreni si sono accumulate, hanno date le caratteristiche orografiche del territorio Ligure hanno acquistato un'accelerazione, si sono create situazioni di allagamenti, di anche distruzioni di infrastrutture che hanno a loro volta sigillato i corsi, quindi appunto il grido era stop al consumo di solo. A me piace sempre ricordare che se oggi si verifino quei fenomeni è perché arrestare il consumo di solo adesso non ne rappresenta la soluzione, perché evidentemente quei fenomeni si verificano in conseguenza di cose che sono state fatte a volte moltissimi anni fa. Quindi dal mio punto di vista, che è quello appunto, credo di averlo anche scritto, di un pianificatore, cioè di una persona che ha una certa fiducia ancora nonostante i limiti nell'attività di pianificazione, io credo che uno dei capitoli più spinosi riguarda il fatto che noi dovremmo intervenire a un certo punto, pensando a questo non in termini di emergenza come purtroppo nel caso dei terremoti, ma come una delle priorità, dovremmo intervenire anche in ambiti già urbanizzati, urbanizzati molti anni fa, cosa complicatissima, ma cercando di rimettere ordine in situazioni che altrimenti, per varie ragioni, tenderanno a riproporsi con effetti sempre più devastanti. È un tema spinosissimo perché chiaramente si tratta in alcune situazioni di intervenire non tanto in aree che sono aree industriali abbandonate, dove appunto il tema della rigenerazione, della riqualificazione può anche tutto sommato essere realizzato con una certa semplicità, ma in alcuni casi si dovrebbe poter intervenire in situazioni di zone abitate, fra l'altro abitate da famiglie, quindi con proprietà frazionate, quindi un intervento estremamente complicato se non altro perché meriterebbe. Questo lo dico perché poi ha dei riflessi anche su tutta la questione consumo zero, non bisogna impegnare i suoli, richiamo questo, nel caso del terremoto recente è chiaro che dov'è che si vanno a realizzare gli insedimenti di emergenza in aree non già precedentemente impegnate, quindi un po' in questo senso anche l'intervento in alcune situazioni dovrebbe poter richiedere dei suoli di rotazione o dell'immaginare delle cose, ripeto, non semplici, non voglio sostenere che siano semplici, ma diciamo ragionando in termini di saldo zero più che di zero consumo, questo poi cercherò di spiegarlo più avanti, salterei questo che tanto riprenderemo più avanti, quindi appunto una delle discussioni riguarda appunto volendo regolare il fenomeno se questo debba essere contenuto, una logica diciamo riformistica di approccio, quindi di lenta riduzione o seppure non si debba semplicemente stabilire un arresto immediato che pure viene sostenuto da alcuni rispetto al tema, cioè già oggi si dice non si deve più impegnare nuovo suolo. La cosa è meno, ripeto, meno banale dal mio punto di vista, non neanche così assumibile in toto, richiederebbe qualche ragionamento in più, comunque sia, perché nella regolamentazione del fenomeno occorrerebbe anche considerare secondo me la possibilità di intervenire su situazioni di progresse, recuperando situazioni di fragilità, recuperando situazioni che riguardano la qualità del patrimonio edilizio italiano che in certi casi sta arrivando a scadenza, proprio per questioni di deterioramento che interessa le strutture semplicemente armate, che oramai manifestano in molti casi un loro esaurimento o comunque fortissima riduzione di capacità strutturali, eccetera, eccetera, eccetera. In questo senso io rivendigo un ruolo che può svolgere la pianificazione. In effetti appunto il caso più noto in Italia di regolamentazione drastica del fenomeno del consumo di suolo è legata a un piano di un piccolo comune della provincia di Milano, ho visto che c'è qualcuno mi pare di quell'area tra gli iscritti, che è questo comune Cassinete Lugagnano, all'epoca c'era questo sindaco Domenico Finiguera, che ancora oggi è una delle personalità più attive, politicamente proprio più attive sul tema, il caso è stato anche documentato in più pubblicazioni, io in particolare possiedo personalmente, mi è nota questa, la cui immagine ne ho caricato sulla slide, è certamente un piccolo comune che però era in un contesto abbastanza sollecitato dal punto di vista delle pressioni di sviluppo, comunque nell'ambito del parco del Ticino, se correggetemi se sbaglio, e di fatto in quel momento la giunta conduce un'esperienza, per cui sostanzialmente rinuncia a qualunque tipo di espansione, fa bene i conti rispetto al bilancio comunale, quindi promuovendo tutta una serie di interventi di risparmio energetico, perché chiaramente rinunciare alle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione richiede un certo spirito di sacrificio, però è un esempio che è stato fatto, ripeto, in assenza all'epoca di qualunque normativa sull'argomento e semplicemente sulla base di una volontà, perché c'era una intenzione chiara da parte di quell'amministrazione, non voglio dire che sia ripetibile ovunque, però indubbiamente è possibile. Ripeto, passiamo quindi alla questione che riguarda, cerchiamo di capire meglio di che cosa stiamo parlando, cosa si intende per consumo di suolo. Io ho fatto riferimento a questa definizione, che è una definizione di carattere scientifico, contenuta in un contributo di Paolo Pileri, che è un'altra delle figure, è un urbanista, ma ha molto curato l'aspetto del suolo, proprio nella sua attività anche divulgativa, scientifica, eccetera. È una definizione che però permette di capire bene quello di cui stiamo parlando, cioè sostanzialmente è una definizione di tipo concettuale che si basa su un triangolo, cosiddetto delle transizioni, dove per transizioni si intendono il passaggio di stato, diciamo quasi come se ne parlassero in termini fisici, da una condizione naturale del suolo a una agricola e poi a una urbana, immaginando anche appunto in un triangolo la possibilità di percorrerlo nelle due direzioni, cioè teoricamente è possibile anche immaginare il ritorno da urbano ad agricolo e a naturale, però abbiamo anche detto che il ritorno indietro richiede a tempi molto più lunghi rispetto al contrario. Quindi questi sono gli stati di copertura che occupano i vertici del triangolo, il cambiamento di stato avviene in conseguenza di azioni di diversa tipologia, omologhe o non omologhe, questo vuol dire se io cambio da girasoli a, non so, mais, non sono un esperto di agricoltura, sto parlando di una trasformazione tipo omologo, cioè mi muovo nella stessa categoria diciamo, viceversa se da girasoli vado a palazzine di sei piani sto parlando di una trasformazione non omologa. L'altro termine che viene considerato la durata della trasformazione, transitoria o non transitoria, e questo non credo sia necessario spiegarlo, e al diverso esito appunto se da artificiale si vada a una condizione di tipo naturale o seminaturale. Teniamo conto che una volta mi sono imbattuto in un forum di persone che si occupano di agricoltura, veramente di ambiente, dove appunto si intende per consumo di suolo anche il passaggio da una condizione naturale o da una condizione agricola, cioè cosa che per un urbanista magari sarebbe meno intuitiva diciamo. Comunque sia, questo è il triangolo delle transizioni che non credo di avere spiegato sufficientemente e comunque ce l'avete nei materiali, in ogni caso è contenuto nel testo che vi dicevo, in particolare è ricavato da un rapporto che a un certo punto, a partito del 2008, si è iniziato a produrre da parte di alcuni soggetti, cose che vedremo fra poco, perché appunto nel momento in cui sotto anche la sollecitazione dell'Unione Europea si doveva immaginare una, come dire, l'ipositi di regolamentare la questione, si è cercato di intanto di attrezzarsi nel capire di che cosa si stava parlando e quindi tentare di darne una quantificazione. Salterei questa parte perché ho prodotto molto materiale ma il tempo è tiranno, quindi come si è incominciato? Il primo organismo che in qualche modo ha iniziato a produrre dei dati è nato come osservatorio nazionale sul consono di suolo a cui partecipavano l'istituto nazionale di urbanistica, ad esempio io personalmente sono coinvolto nell'edità dell'istituto, nella sezione del Lazio, lega ambiente e il dipartimento di architettura e pianificazione del Politecnico di Milano. Questo è nato come osservatorio a un certo punto si è trasformato in un centro di ricerca sui consumi di suolo, in ogni caso stabilita la mission, eccetera, dal 2009 questo soggetto ha iniziato a produrre un primo rapporto. Questo primo rapporto era abbastanza interessante e ci ho speso qualche tempo per prepararvi la slide perché intanto ci dice qual è stato il nucleo iniziale di persone che hanno collaborato e si sono occupate in maniera direi professionale oltre che scientifica dell'argomento. Cosa ci interessa perché poi ritroveremo molte di queste persone anche più avanti. Il rapporto essendo stato un'esperienza iniziale si era posto agli obiettivi ambiziosi e quindi intanto intendeva calcolare il consumo di suolo in termini di flusso. Cosa vuol dire registrando appunto tutti i singoli passaggi di stato da naturale ad artificiale e anche viceversa, piuttosto che tentando di elaborare la semplice somma algebrica, cioè quest'anno abbiamo aggiunto 26 km quadrati di suolo consumato. Cioè si voleva darne, l'obiettivo era certamente ambizioso, si voleva tentare di darne una quantificazione molto analitica e molto di dettaglio. Peraltro il rapporto poteva prendere in considerazione in quel momento solo alcune realtà territoriali perché erano le uniche realtà territoriali che intanto avevano risposto perché essendo come dire un'iniziativa nata da parte di sostanzialmente esponenti di ambienti scientifici, la richiesta dei dati è stata volontaria, quindi intanto non tutte le amministrazioni a cui i dati erano stati richiesti avevano prodotto i dati e in ogni caso alcune hanno risposto ma avevano dei dati in una forma non utilizzabile. Quando è che un dato non è utilizzabile? Io posso anche avere la copertura a una certa data del suolo consumato, ma se non ho una serie storica non ci faccio niente, lo posso assumere come dato così come tempo zero, però in realtà non ho la possibilità di derivarne particolari ragionamenti. Questa era l'idea ambiziosa iniziale, in realtà poi questo soggetto si è scontrato con la difficoltà di acquisire i dati, i rapporti sono stati prodotti da un certo punto in poi, lo scrivo dopo, vedete 2009, 2010 eccetera, poi con cadenza biennale, dal 2010 con cadenza biennale, ma già dal rapporto 2010 alla fine ad esempio si è rinunciato all'idea di calcolare il flusso delle trasformazioni perché semplicemente non c'era il dato e oltretutto si doveva governare probabilmente da una struttura che non aveva i numeri proprio in termini di risorse umane, una quantità di dati, per cui a un certo punto si è deciso invece di abbandonare il tema del flusso e di proporre semplicemente il dato algebrico e questo era stato giustificato nelle premesse del rapporto, vedete perché dice così, facciamo prima sostanzialmente a compilare il rapporto. Continuano ad essere carenti i dati, però nel frattempo le regioni di cui i dati erano pubblicati si erano dotate di geodatabesi territoriali, quindi il dato perlomeno era in una forma digitalizzata, insomma in una forma più spendibile e c'è un focus sulla Toscana e le marche che si affacciano sulla ribalta, proprio perché le marche che appunto legifereranno nel 2011, nel frattempo si erano dotate di una struttura in qualche modo di controllo del dato. Altri soggetti sono questo centro di ricerca interdipendimentale, riuscirò a dirlo, che fa capo all'Università Federico II di Napoli, che in associazione sempre con l'INU che è stato particolarmente attivo sull'argomento, ma col CNR, con l'ISPRA, l'Istituto Superiore e altri soggetti, ha curato lo sviluppo di questa piattaforma, questa slide che vedete è già una mia interrogazione, dove io essendo di area romana ho cercato di vedere qual era la copertura del suolo artificiale nell'ambito, questa è la costa di Roma, questa è l'area di Fiumicino, il comune di Fiumicino, Ostia, le borgate verso il mare e questo è il Tever, quindi questa è Roma e questi sono l'area di Castelli. La piattaforma quindi ha un suo intento di messa a disposizione dei dati che sono evidentemente acquisibili in un formato GIS, quindi in qualche modo possono rappresentare una base anche per studi e analisi, ad esempio i soggetti che debbano predisporre una qualche valutazione ambientale, eccetera. Di fatto però da un certo punto in poi, quindi a partire dal 2008, io dico per fortuna, si è affacciato a un soggetto che è l'ISPRA, l'Istituto Superiore, ecco perché gli acronimi creano sempre problemi, per la protezione della ricerca ambientale che nasceva istituito con legge, quindi è un organismo tecnico dello Stato, scientifico dello Stato che ha iniziato a sua volta a produrre dei dati, intanto a raccoglierli come operazione fondamentale prima di produrli e poi comunque a divulgarli e quindi se all'inizio questi dati trovavano espressione in una serie pubblicazioni, i primi rapporti, i primi dati sul consumo di suolo da parte di ISPRA sono contenuti in un rapporto sullo stato dell'ambiente in generale, quindi il consumo di suolo è una sezione di un rapporto più ampio. Viceversa a partire dal 2014 l'ISPRA ha curato la pubblicazione con cadenza annuale, questo è particolarmente importante, di un rapporto specificamente dedicato al consumo di suolo, fra l'altro è interessante perché cosa che io considero necessaria, chiaramente questo rapporto inizia a non solo a dare un dato quantitativo, sebbene anche l'ISPRA tenda per motivi anche di presenza a essere attivo dando il dato 8 metri al secondo, però in realtà il rapporto contiene molto di più perché i dati sul consumo di suolo sono espressi anche in termini qualitativi e intanto sono localizzati almeno su base comunale, gli urbanisti vorrebbero un dettaglio anche maggiore, però sicuramente stiamo parlando di una cosa che è un'ottima base a mio avviso di acquisizione e divulgazione. non a caso appunto come dicevo prima ci tengo molto a questa dimensione delle persone che sono coinvolte, perché interessa? Questi sono gli autori del rapporto 2016, l'ultima edizione, come voi vedete se vi interessa, a me interessa per quello in genere ci faccio caso, ci sono Lorenzo Bellicini, forse voi non vedete il mio mouse ma vedete questa freccia, c'è Lorenzo Bellicini che come Cresme produce dati e quindi collabora anche a questa iniziativa oltre a produrre, il Cresme è sostanzialmente un soggetto di diritto privato che vende le proprie attività, nel senso svolge attività di ricerca, però partecipa a questa attività di raccolta, c'è di nuovo il CRCS, il centro di ricerca sul consumo di suolo e il Politecnico di Milano, Carlo Blasi è un professore che si occupa di facoltà di botanica a Roma, ci sono vari soggetti, Enea, insomma come vedete è di nuovo Inuo, sono gli stessi soggetti Arcidiagono, Viviane era Presidente dell'Inuo, ma Arcidiagono e Damiano di Simile come Lega Ambiente partecipano anche al rapporto invece del CRCS, quindi evidentemente voglio dire questo perché è per me interessante, perché direi che è ottimo quando c'è una convergenza di soggetti e istituzioni, perché è chiaro che il dato che viene prodotto a mio avviso poi diventa un dato più affidabile, teoricamente meriterebbe, abbiamo un soggetto che di fatto è incaricato di monitorare il fenomeno e lo monitora dando anche delle informazioni molto di grande qualità a mio avviso, con tutte le difficoltà perché poi c'è un tema che poi su cui è sorvolato, è chiaramente l'acquisizione dei dati di base, spesso viene fatto da coperture satellitari che possono avere delle limitazioni alla risoluzione, eccetera, però insomma ripeto, già è stato uno sforzo notevole questo, quindi nella prefazione a questa edizione che è la terza, appunto si dicono alcune cose, le novità del rapporto, quindi per la prima volta intanto il dettaglio è a scala nazionale, regionale ma comunale, quindi è già un dato di grande qualità e quindi è un dato che in qualche modo rispetta e dà conto di quello che è il fenomeno nelle diverse realtà locali, perché anche questa questione ci interessa parecchio, nel senso che anche appunto quando si dice che c'è un obiettivo di riduzione generale del consumo di suolo, è evidente che ci sono alcune situazioni in cui però il fenomeno ha dato luogo a compromissioni molto più elevate, ci sono dei dati, io non amo citare i dati, ma in alcuni casi parliamo del 47%, in alcuni casi percentuali molto rilevanti di copertura artificiale dei suoli, quindi lì poi c'è un problema, appunto quel problema che dicevo prima, in alcuni casi bisognerebbe anche tentare di immaginare in qualche modo delle forme per tornare indietro, almeno nelle situazioni ad esempio di instabilità idrologica, eccetera, però appunto non ovunque il consumo ha lo stesso significato e quindi bisognerebbe poter operare in maniera diversa in relazione a diversi contesti. Si dice una cosa interessante, questo forse vale bene di leggere, cioè appunto i dati del rapporto 2016 mostrano come la progressiva espansione delle infrastrutture e delle aree urbanizzate, in particolare quelle a bassa densità, appunto lo sprawl, continua a causare un forte incremento di superficie artificiali, il consumo di suolo rallenta, perché nell'anno precedente il dato era intorno agli 8 m2 al secondo e questo rapporto registra un andamento tra i 6 e i 7, quindi c'è un certo rallentamento, forse gioca un ruolo appunto la crisi, ma cresce ancora negli ultimi anni di una crisi che non è riuscita a fermare dinamiche insediative, che quasi mai sono giustificate da analoghi aumenti di popolazione e di attività economiche che portano a trasformazione dell'uso del territorio, non sempre adeguatamente governate da strumenti di pianificazione e da politiche efficaci di gestione del patrimonio naturale. Le conseguenze sono la perdita consistente di servizi ecosistemici e l'aumento di quei costi nascosti, come li definisce la Commissione Europea, dovuti alla crescente impermeabilizzazione del suolo. Questo per dire che in realtà il consumo di suolo ha anche dei costi che sono monetizzabili e da qualche parte pensavo di averlo scritto, l'ISPRA in realtà li calcola, c'è un dato che circola su questo, perché in effetti paghiamo paghiamo sotto vari profili, appunto anche in termini di emergenza indotta che poi richiedono interventi di ripristino, questa è una delle tavole, ce ne sono moltissime, ci sono anche degli indici, insomma chiunque voglia farne un uso trova perlomeno una piattaforma di partenza per sviluppare questi ragionamenti, questa tavola che ho estrapolato ad esempio ci dà il dato relativo all'incremento di suolo consumato a livello comunale tra il 2012 e il 2015, con un range di percentuali, quindi ci sono situazioni che magari non sono quelle che ci aspetteremmo, là dove appunto in qualche caso il fenomeno si sta spostando su contesti che erano meno, stati meno colpiti diciamo in precedenza da questo, perché questo avviene appunto bisognerebbe fare delle indagini o poi approfondire nelle situazioni locali, ma insomma in situazioni che conosco vedo che appunto prosegue una certa tendenza a realizzare interventi che non sempre appaiono strettamente necessari, dove la rendita, l'intercettazione della rendita gioca evidentemente ancora un qualche ruolo. Dai dati alle politiche, ho fatto riferimento, quindi intanto ripeto, la prima cosa per tentare di regolare un fenomeno è conoscerlo, quindi il tema dei dati è un tema centrale, poi bisogna capire come si può tentare di governare questo. In sede europea, ripeto, il tema ha una sua storia che deriva da quello a cui ho fatto scena, cioè dalle riflessioni intorno alla città densa, perché appunto il tema dello sprollo era un tema già noto nei decenni precedenti, passati. Quindi cosa ricaviamo da questo contributo che è sempre contenuto nel rapporto del CRCS del 2010? Cioè si è osservato questo, a un certo punto diventa chiaro che nonostante la stagnazione continuava inesorabilmente il processo di consumo del suolo e quindi con quei modelli a bassa densità. La considerazione interessante che viene svolta nel testo che vi ho riassunto qui è in rosso, è questa, cioè che a un certo punto però bisogna anche considerare il fatto che lo sprawl per quanto abbia un'infinità di conseguenze negative, ad esempio sui bilanci delle amministrazioni che devono portare servizi, quindi affrontando la necessità di attrezzare un territorio molto più vasto e quindi con un aumento dei costi corrispondente a questo, però è il grande successo di questo modello istitutivo perché di fatto è una condizione abitativa che in molti casi è desiderata e voluta dalla gente al di là, ancora prima di avere la percezione poi degli aspetti negativi che porta con sé. E quindi la prima esigenza che si è identificata a un certo punto è stata anche quella di riconoscere che bisognasse fare una qualche azione di tipo culturale per far comprendere che invece era necessario invertire la rotta e questo fa parte ad esempio della necessità di produrre delle campagne di informazione, insomma una serie di interventi che non sempre sono misure materiali ma insomma richiedono la preparazione di contesto, di ambiente. Quindi il tema di come si interviene, il primo territorio su cui in qualche modo risulta necessario intervenire sono proprio questi contesti che di fatto hanno già impegnato superfici per l'edificazione che in qualche modo vedono già la presenza di quote irrilevanti di popolazione e magari una scarsissima presenza di servizi, allora magari si può tentare intanto di assumerli come dato, vedremo che questo è stato fatto ad esempio nel caso del piano di coordinamento della provincia di Roma, perché probabilmente è da lì che è necessario partire ad esempio con politiche di densificazione, cioè si può densificare ciò che non lo è evidentemente. E ad esempio mi è in nota, non so quanti di voi, insomma ho visto le domande, poi semmai forse faremo una pausa perché è un po' lunga, vedo, cito Nicola Antonio Carlo Magno, la devo leggere, non ho ancora visto bene però la domanda, adesso cercheremo, magari forse oggi possiamo pensare di fermarci fra qualche minuto. Ad esempio in Francia mi è nota questa azione denominata BIMBI che fa un po' ridere, però è un acronimo che nasce al contrario rispetto al NIMBI, vuol dire Build in my backyard, cioè praticamente la Francia in alcune realtà ha sostanzialmente, diciamo quello che in Italia è stato fatto col piano casa in maniera spontanea, lì è stato fatto, cioè consentire di densificare le proprie abitazioni, è stato fatto tentando di definire una politica di regolazione, insomma un po' meno spontanea, dico meno spontanea perché il piano casa in Italia funziona come dire a domanda del singolo proprietario di villetta, eccetera, insomma lì c'era un po' una strategia un po' più definita, diciamo con una maggiore partecipazione delle strutture pubbliche, insomma che in qualche modo promuovevano questo. Perché spesso il singolo cittadino non ha neanche la capacità di avere un'iniziativa economica, quindi non si cimenta neanche, mentre l'esigenza da parte dell'amministrazione è di tentare di accrescere il quota di popolazione, quindi di indirizzare la domanda di abitazione in quei contesti che ancora consentono uno sviluppo, diciamo, e vedono però già oggi la presenza di popolazione. Quindi azioni di contrasto allo sprawl sono state proposte nell'Unione Europea già a partire dal 1990, lo dirò meglio dopo, in realtà l'Unione Europea non ha una competenza specifica, non entra sulle politiche di regolazione urbanistica perché non ha competenza su quello, non è proprio, credo, non vorrei dire una corbilleria, ma non è proprio nel trattato di Maastricht, non c'era possibilità di intervenire. L'Unione Europea interviene sull'argomento solo dal punto di vista dell'ambiente, che invece è un tema di cui ha piena competenza, quindi rispetto alle conseguenze negative in termini ambientali. Le modalità con i quali si è tentato di limitare il fenomeno sono state o di natura regolativa, cito il testo in questo caso, quindi con il blocco dell'espansione lungo alcune direttrici o di natura morfologica e regolativa, in particolare l'esempio è quello delle Green Belt e qui intervengo, a questo proposito segnalo che in Gran Bretagna il tema della cintura verde è già degli anni 40, voglio dire il fenomeno, come tutti chi studia un po' pianificazione del territorio sa bene che non è che le cose nascono all'improvviso. La Gran Bretagna nel dopoguerra si cimenta col piano di Londra di Abercrombie, che proprio individua la necessità di separare, delimitare la crescita di Londra che era già abbastanza ipertrofica all'epoca, quindi con la creazione di questa Green Belt e poi anche attraverso una misura legislativa, il Town Planning Act del 40, mi pare, che è il primo di una serie di atti legislativi che di fatto hanno dato luogo allo sviluppo delle cosiddette New Towns, cioè la Gran Bretagna già negli anni 40, negli anni 50 si pone il tema dell'indirizzare la crescita urbana, quindi evitando la dispersione sediativa, ma dando origine a queste New Towns che chiaramente hanno impiegato degli anni ad essere dei centri di una qualche qualità abitativa, però di fatto spostando, trasferendo l'espansione di Londra in un ambito più esterno, comunque collegato alla città centrale da un sistema efficiente di trasporto sul ferro, in particolare molto diffuso in Gran Bretagna. In realtà questo è un tipo di misura che anche ora oggi viene suggerita, vedremo che la ritroveremo nelle slide successive, perché fa parte delle possibili strategie, cioè a un certo punto una delle condizioni necessarie è chiaramente che esista un trasporto pubblico collettivo efficace, perché altrimenti se mandiamo tutti sulle automobili è chiaro che non stiamo ottenendo i benefici che ipotizziamo di voler raggiungere. Quindi in alcuni casi sono state prodotte specifiche leggi e questo è il caso ad esempio della Germania, che hanno definito il consumo di suolo e lo hanno limitato, imponendo dei metodi anche di controllo. Vedremo che poi il caso della Germania ha una sua oramai lunga tradizione, però è chiaro che anche lì qualche problema c'è, insomma, vedremo che gli obiettivi fissati non è che poi sono stati raggiunti così come ipotizzato, ci sono chiaramente molte resistenze, in realtà stiamo parlando di una cosa, ripeto, estremamente complicata da regolare e da attuare, quindi diciamo quello che è evidente, proprio perché c'è una complessità del tema, bisogna pensare a una possibilità di intervenire sulla questione adottando anche in maniera contestuale e contemporaneamente più strategie insieme. È impensabile come dire, vabbè, stabilisco un limite per legge e sono a posto, probabilmente no, perché anzi non si riesce a fare nulla da questo punto di vista, bisogna essere persuasivi, bisogna mettere in campo altre misure che vediamo in parte qui, appunto, stavo anticipando quello che in realtà ho scritto, cioè le politiche attivate in Europa, quindi hanno utilizzato, hanno già utilizzato laddove sono state proposte delle strategie di approccio prevalente, quindi intanto, cosa ad esempio, sottolineo nel primo caso la misurazione del consumo di suolo, ad esempio in Italia almeno questo lo stiamo facendo, ripeto l'ISPRA sta già recitando un ruolo molto attivo su questo, il controllo a scala regionale mediante le definizioni di guida strategiche da applicare alle locali, ad esempio questo in Italia ancora non lo stiamo facendo, la legge non c'è, anche quel testo che io ho visto, diciamo, questi giorni, poi ci torneremo sopra, mi pare che da questo punto di vista non sia assolutamente soddisfacente, peraltro non è una norma approvata, quindi non sappiamo cosa ne sarà. La creazione di agenzie locali per lo sviluppo, questo è un tema molto interessante, perché poi tutti questi grandi temi se non sono declinati alla scala locale, quindi ritorno sulla domanda di Carlo Magno perché probabilmente era pertinente a questo, sì è interessante il tema di sistema informativo, infatti mi trovo assolutamente d'accordo, ma quello purtroppo è un tema che andrebbe… ci torniamo sopra anche quando parleremo brevemente della proposta di legge nazionale, quindi la rividerizzazione delle aree già urbanizzate e centrali, l'area di ridefinizione di un modello di tassazione dei suoli che scoraggi il consumo di nuovo suolo e la riduzione della dipendenza da parte della municipalità dei proventi derivanti delle tasse locali. Ora questa è una questione assolutamente centrale nelle due declinazioni, in generale sulla tassazione generale che riguarda i suoli, i limo in Italia e anche per quello che riguarda i proventi che derivano all'amministrazione e gli enti locali dagli oneri di urbanizzazione. Piccolo aggiornamento, non l'ho scritto, era già noto, ma mi sono semplicemente dimenticato ad inserirlo e recupero a voce, voi sapete che nella finanziaria approvata da pochi giorni è stato inserito questo cosiddetto emendamento salvasuolo, sostanzialmente si è tornati a disciplinare il fatto che gli oneri di urbanizzazione devono essere impiegati per interventi di, come dire, quindi impiegati in sede locale sulla riqualificazione attraverso la realizzazione di servizi, di opere di urbanizzazione, di infrastrutturazione, utilizzando quei fondi là dove si generano, mentre prima, a partire mi pare dal 97 se non dico stupidaggini, si è via via consentito che gli oneri fossero impiegati per finalità di equilibrio generale del bilancio degli enti locali. Il tema è molto complicato, nel senso che intanto, chiaro che in generale le entrate da oneri si sono ridotte, perché si chiedono oggettivamente, io conosco un po' il dato di Roma, si chiedono oggettivamente meno permessi di costruire, insomma negli ultimi anni la crisi è stata feroce, però comunque da molto tempo, da più parti si sottolineava questa assurdità per cui a fronte dei tagli dello Stato sui bilanci degli enti locali, insomma alla fine cosa potevano fare i comuni? Vendersi appunto il suolo, detto proprio in maniera brutale. Quindi consentendo interventi di trasformazione che poi non vorrei richiamare fantasmi, però molto spesso alcune realtà sono anche legate a fenomeni criminali, sono alcune cose che sono veramente palesemente dei monumenti al riciclaggio di denaro, non saprei come altro definirlo. Quindi ulteriormente la definizione di una regolamentazione all'interno dei piani locali che scoraggi il consumo di suolo e questo come abbiamo visto in realtà è sempre possibile se c'è la volontà di farlo e la forza per sostenere certe strategie. Quindi va bene, adesso questa parte andrei anche un po' veloce perché purtroppo il tempo, io sono circa ai 3 quarti, più o meno sono l'evoluzione dell'esposizione, segue il tempo a disposizione. Comunque insomma, ecco il concetto che mi preme sottolineare, l'applicazione di queste azioni avviene in maniera integrata, spiegabilmente, ovvero combinando azioni di tipo istituzionale e strategico a regolamentazione degli usi del suolo a scala vocale e in alcuni casi anche mediante l'uso della tassazione quale deterrente al consumo, perché uno dei problemi è questo, si può anche fare un gran chiacchierare e dire bisogna privilegiare l'intervento sull'esistente, perché il vero dramma è che ancora oggi è molto più conveniente, insomma per quella che è l'attuale regolazione, è molto più conveniente intervenire su un suolo vergine, perché costa di meno banalmente e quindi consente anche dei margini imprenditoriali molto più interessanti. Allora, se non si mette mano a questo, si può fare in vari modi, non sono qui a proporre la mia piccola legge, però si può fare in vari modi, questo è un primo aspetto che va assolutamente considerato. Quindi al tempo della crisi il rischio è quello di attivare politiche di risultimo procicliche sotto il profilo economico, nel senso di già oggi si costruisce poco, quindi magari bisogna anche stare attenti quando si propone una misura di non ammazzare definitivamente un'intera filiera economica, d'altra parte consentire lo sviluppo di iniziative che generano l'ulteriore consumo di soldi, determinano alcuni contesti dei costi ambientali che ad esempio sono stati anche misurati da Ispra in termini economici, che superano di gran lunga gli eventuali benefici, fra l'altro in genere quello che avviene sempre è che i costi diffusi interessano una grande massa di persone, mentre i benefici ahimè molto spesso interessano ben pochi soggetti e quindi quella è un'altra contraddizione che è legata ai processi di trasformazione. Quindi nel 2006 dal punto di vista della direttiva, è stata emanata la direttiva che ha il focus nell'ambiente urbano, perché l'Unione Europea ha difficoltà, limitazioni a sviluppare una strategia che riguardi direttamente i processi di trasformazione, in ogni caso a partire da questa matrice, le indicazioni dell'Unione Europea in riferimento alla riduzione del consumo di soldi hanno ricordato le raccomandazioni, la densificazione delle aree già urbanizzate, la connessione delle aree mediante un efficiente trasporto pubblico, la qualificazione energetica dei centri urbani, io accennavo all'inizio al tema, noi avremmo un problema di riqualificazione generale del patrimonio edilizio che spesso è energeticamente, spesso in maggioranza dei casi, molto inefficiente. La definizione di cinture verdi in grado di ostacolare morfologicamente lo sviluppo incontrollato, la definizione di aree di uno sviluppo e questo riguarda il fatto di impedire che in alcune situazioni si possa continuare a immaginarne una trasformazione. Il caso della Germania è quello più noto, che è in qualche modo un precedente, fra l'altro segnalo che leggevo, che è richiamato espressamente nella relazione che accompagna il disegno di legge, si dice ma noi consideriamo il caso tedesco come il caso più simile a quello italiano e anche di migliore riferimento, il caso della Germania è interessante perché come vedete le date ci spaventano sempre un po', noi siamo nel 2017 e stiamo ragionando di una disciplina, in Germania sono partiti nell'85, neanche lì è stato facile, leggevo che in realtà alcuni obiettivi non si sono raggiunti, immaginatevi in che condizioni potremmo operare noi. Quindi nel 98 la Merkel che allora era Ministro dell'Ambiente, la Germania si era reunificata nel 91, lei era della Germania Est, quindi insomma però nel 98 è Ministro dell'Ambiente, ha fissato la quota ammissibile consumo di suolo su base nazionale in 30 ettari al giorno. Come obiettivo attendere? Cioè volevo dire che mentre nel 98, lo scrivo più sotto, il consumo tendenziale era di 120-130 ettari al giorno, ci si era prefissi, quindi nell'arco di un trentennio, perché dal 98 al 2020, un po' meno, un ventennio, di arrivare a un obiettivo di 30 ettari al giorno. A tale obiettivo ne fu aggiunto un secondo da parte di un organismo consultivo del governo tedesco, dello Stato segnalo sempre che quando si parla di consumo zero in ambito europeo si parla di consumo a saldo zero, che appunto quello, c'è una differenza non tanto sottile rispetto al fatto che saldo zero vuol dire che in alcuni casi io posso immaginare di impegnare nuovi suoli a patto di ripristinare in altri e di parentità la condizione di naturalità, diciamo. Cosa che sembra complicata e certamente lo è, ma che in alcuni casi, come io accennavo anche all'inizio, citando Genova, potrebbe essere necessario poter fare. La Germania rappresenta un caso di studio perché l'utilizzo di una strategia nazionale quantitativa determina l'applicazione e la messa in atto di una gamma di strumenti integrati, questo tema è l'integrazione, cioè di spiegare più azioni, più politiche, alcuni a livello locale, alcuni livello fiscale, quindi in Italia la fiscalità e la competenza statale e altre, tutte concorrono perché ripeto, la questione non è affatto di facile soluzione e quindi l'integrazione di strumenti consente di perseguire gli obiettivi. A strumenti di natura giuridica si affiancano strumenti appunto di carattere fiscale e economico di comunicazione, aspetto che noi non consideriamo molto spesso in Italia, ma che pur è sempre presente nelle politiche di fonte comunitaria e di ricerca. Gli obiettivi di livello nazionale vengono poi sviluppati dai programmi di sviluppo regionale singoli lander, qui stiamo parlando di una cosa che in Italia è chiaramente impensabile secondo me, laddove si sviluppa l'azione di strategie efficaci in attuazione è il limite fissato a livello nazionale, perché è inimmaginabile? Perché intanto la proposta che gira adesso non dice nulla a mio avviso su questa questione, ma io cito una cosa che conosco, appunto quando noi abbiamo elaborato il piano della provincia di Roma, il piano territoriale, di fatto è stato fatto in assenza praticamente del quadro territoriale regionale, immaginare che un obiettivo statale segue la filiera in Italia, regioni, province, che poi sappiamo tutti com'è andata, ma in teoria devono essere abolite e comuni a cedera, mi tremano i polsi, però in Germania evidentemente c'è una catena di comando, non so come definirla, più funzionale a questo. La progressiva di riduzione del consumo di suolo hanno osservato in questo decennio, non è considerata dall'ufficio statistico generale una vera e propria inversione di tendenza rispetto ai livelli di consumo registrati prima del 2000, in quanto la flessione sembra essere maggiormente legata alla congiuntura economica assavorevole che sta attraversando il comparto delle costruzioni. Questo test è un testo del 2010, sottolineo perché ci fa capire, però è quello che dicevo, evidentemente neanche lì tutto va in maniera ideale. Se si dovessero rivelare inutili sia le misure economiche e fiscali, sia quelle legate alla pianificazione, sostiene questo autore che è citato a sua volta, questo Frisch, che è citato a sua volta dall'autore del testo che io riprendo, il governo potrebbe prendere in considerazione anche la posizione di oneri particolari per la costruzione in aree di espansione, che è uno dei temi di cui si discute, questo tipo di dibattito è presente anche in Italia. Non c'è chiaramente una norma, non stiamo discutendo di una norma. Quindi, molto rapidamente, insomma, un conto è parlare di contenimento, riduzione, quindi in una logica incrementale, riformista, non so come lo vogliamo chiamare, un conto è parlare in assoluto di zero consumo. Sono tutte opzioni di cui si parla, sono tutte cose che abbiamo attraversato nella discussione fino a qui, sono temi che sono sul piatto, insomma, che poi ognuno di questi può avere declinazioni di vario tipo, anche proprio in relazione alle diverse misure che è possibile mettere in campo. Esatto. Nel 2012, quindi, c'è un primo tentativo di regolamentazione statale, che seguiva, diciamo, in realtà già precedenti esperienze a livello regionale, diciamo, il tempo si sta riducendo sempre più, quindi io salto molto velocemente, anche perché, diciamo, stiamo parlando di un testo che poi non sostanzialmente è stato completamente stravolto, per chi avesse la curiosità di fare un'indagine tipo storico sulla marcia di avvicinamento alla futura normativa, trovo tutto, se mi viene in genere faccio riferimento a, non so se faccio pubblicità, comunque ci sono dei siti, restiamo sul generico, diciamo, tipo tecnico, professionale, divulgazione, che hanno tutta la documentazione necessaria. Voi sapete, appunto, a partire comunque dal testo del Ministro Catania, integrando una serie di proposte di legge anche di altri autori parlamentari, parlamentari, etc., si è arrivati a un testo che in qualche modo ha l'intento di raccogliere questi diversi contributi, che ha trovato una sua approvazione nel maggio del 2016 e questo testo è stato trasmesso al Senato, attualmente, quindi in teoria è in discussione, non lo so, sono parole grosse, comunque è al Senato, dove giace forse in qualche commissione, non sappiamo cosa succederà, perché come tutti sappiamo, non sappiamo quale sarà il destino di questa legislatura e se ci sarà un interesse a concludere, dovrei fare un passo indietro, perché forse nei pochi minuti conviene comunque prendere in considerazione un testo che non ha valore, ma è quello che circola, nella versione che ho consultato non sono sicuro che sia l'ultimissima, comunque è il testo 3.601 al Senato della Repubblica, intanto questo testo contiene alcune cose e non ne contiene molte altre, dà una definizione all'articolo 2, dà delle definizioni di superficie agricola e di consumo di suolo, la definizione di consumo di suolo è data come riduzione di superficie agricola per effetto di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all'attività agricola, come vedete è una definizione di legge che non ha quasi nulla a che vedere con quello che abbiamo detto, la cosa più preoccupante di questo testo che ho esaminato con un po' più di dettaglio è che l'articolo 3, può darsi che io abbia delle forme di cecità selettiva, però l'articolo 3 che si chiama limite al consumo di suolo, che peraltro consta di 11 commi, l'unica cosa che non trovate è il limite, non è dato l'obiettivo che pure circola nelle premesse, nella relazione di accompagnamento al testo, ma si stabilisce che questo limite debba essere definito con un decreto, che quindi sia un decreto attuativo di questa legge, che vede coinvolti vari ministeri, commissioni, organismi, insomma mi pare una cosa che a vederla così, a Roma si usa l'espressione buttarla in caciara, che non so se è comprensibile, la caciara è il luogo dove si fanno i formaggi, quindi è un luogo di particolare confusione nella mentalità, nel lessico romano, quindi insomma mi pare, comunque ecco, per quello io poi alla fine mi dedico anche con una certa leggerezza all'esame di questi testi di legge, che ripeto non sono una norma ancora, perché mi pare che ancora ci sia della strada da fare, fra l'altro una delle più grandi preoccupazioni è definire gli interventi di trasformazione in ambito agricolo, che teoricamente apparentemente dovrebbero forse essere quasi esclusi da una norma che nasce per limitare l'impegno di solo agricolo, c'è all'articolo 7 sostanzialmente quello che poi è stato anticipato come emendamento salvasuolo che citavo in precedenza, c'è poco altro, non so, non vi farei perdere più che tanto su questo, le regioni alcune hanno fatto delle leggi, delle norme, questo quadro che io qui presento è un quadro aggiornato al 2015 che deriva da un articolo del Sole 24 ore, che trovate facilmente sul sito di quella, purtroppo non l'ho appuntato, ma insomma comunque è quel sito del governo che documenta gli interventi di riqualificazione del territorio, adesso non mi viene, scusatemi, comunque insomma per chi avesse la volontà di leggersi più approfonditamente questo, le leggi dicono varie cose, le leggi regionali che quindi stabiliscono dei limiti, indicano geneticamente il fatto che si debba eseguire una verifica di localizzazione alternativa, cioè solo se non c'è la possibilità di utilizzare suoli o edifici in alcuni casi, quindi riqualificando edifici resistenti già impegnati, solo in quel caso è possibile semmai impegnare nuovi suoli. L'Emilia Romagna so che sta legiferando o ha forse approvato da pochissimo una nuova legge che riguarda questo, ho già letto che c'è un fuoco di sbarramento che viene considerato comunque insufficiente, peraltro stabilisce questa legge in discussione un limite del 3% che non è neanche bassissimo, stiamo sempre parlando di impegno di nuovi suoli su piani che probabilmente sono già sovradipensionati, che quindi hanno già delle previsioni ampie di trasformazione di suoli, tant'è che di tutto questo coacervo di norme regionali, io in generale, perché all'epoca stavo seguendo proprio la questione in ambito provinciale, la provincia di Roma, nel 2011 venne pubblicata questa legge della regione Marche, si può discutere, adesso non voglio dire, è buona, è bella, è brutta, è poco il 75%, però è una legge che ha il pregio di essere molto semplice, di indicare appunto una qualche funzione di ricognizione nell'ambito dei piani, perché pure gli 8 mila comuni italiani hanno dei piani regolatori e quindi il fatto, io sono un pianificatore mi dà molto fastidio quando vedo la mia disciplina non considerata, perché fra l'altro sono una base informativa notevole o lo potrebbero essere se informatizzati ad esempio, sarebbe estremamente semplice, anche per le realtà più, come dire, meno dotate dal punto di vista del personale, in qualche modo stabilire lo stato di attuazione di uno strumento, quindi la legge della regione Marche è un pregio secondo me, potrebbe essere una delle misure, non esclusivamente questa, stabilisce che i comuni non possono adottare nuovi piani regolatori o apportare varianti se in qualche modo non si sia verificato che il piano precedente è stato attuato, io ripeto nel Lazio ci sono lo stesso piano regolatore di Roma del 65, poi a Roma è stato fatto nel 2008 un nuovo piano, ma il piano regolatore del 65 prevedeva espansioni per 5 milioni di abitanti, ammettiamo che fosse ancora in vigore oggi, ma sarebbe molto semplice stabilire una norma, ma so che necessità c'è di fare varianti o di fare non il nuovo stadio della Roma, ma il nuovo stadio e 300 mila metri cubi di uffici in un ambito che non era previsto per questo uso, Roma ha già 13 centralità urbana in mezzo, anzi 12, abbiamo fatto la tredicesima, in un ambito in zona parte esondabile, vicino a un depuratore, eccetera, ecco, io trovo che sarebbe molto molto facile fare, ad esempio stabilire qualche limitazione di questo tipo, perché è facilmente controllabile e sarebbe compatibile anche con una serie di aspetti dell'ordinamento, intanto con la necessità di predisporre gli strumenti urbanistici, Piemonte, Bolzano, eccetera, ognuno, insomma, quelli sono chiaramente più interessati al proprio contesto territoriale, io ricordo esempio, Provoceo al Basilicata e del, chi ci ascolta, Carlo Magno, eccetera, ad esempio la legge Basilicata, legge urbanistica con cui ho lavorato in questo piccolo comune facendo un regolamento urbanistico, prevedeva ad esempio la necessità di individuare un territorio periurbano, io feci un regolamento urbanistico che era uno strumento che in teoria non poteva prevedere espansione, lì c'era una qualche strategia almeno disegnata nella legge, poi la legge che richiede sempre un'attuazione, in cui comunque si stabiliva che solo in alcuni casi, in casi riconosciuti si potesse pensare di prevedere espansioni e fra l'altro anche per quei regolamenti urbanistici che teoricamente non le potevano prevedere, si prevedeva che si indicasse la eventuale direttrice di espansione, quindi in una chiave in qualche modo strategica vogliamo chiamare, infatti il comune si interrogasse già e quindi rendesse noto già in qualche modo quelle potevano essere le direttrici di espansione qualora si fosse verificata la necessità, io forse la interpreto in maniera troppo teorica, però mi pare che questo fosse insomma lo spirito della norma con cui ho lavorato, che all'epoca fu interpretata così dalle strutture regionali e provinciali con cui io avevo necessità di confrontarmi, quindi appunto per quello che riguarda le marche, non so se ci sono dei marchigiani tra coloro che ci ascoltano, sono molto affezionato a questa legge regionale, quindi si prevede appunto l'articolo, sono due articoli, quelli significati dell'articolo 3, dove si prevede questo programma operativo per la riqualificazione urbana, dove appunto sostanzialmente con gli obiettivi di riqualificare e contenere l'espansione urbana si predispone a la necessità di adottare questo programma operativo con volo di piano attuativo, che sostanzialmente necessita di una ricognizione di quelle che sono le previsioni di trasformazione e quindi indicando al contrario le eventuali necessità, tenendo conto di una serie di fattori, fattori di tipo ecologico ambientale ed energetico, degli insediamenti. Il PORU, questo programma, interessa le aree urbanizzate diverse dalla zona A che evidentemente ha dei suoi vincoli diversi, indicando dei range di occupazione, degli indici che sono poi quelli in realtà del decreto 1444, su cui rifare questo tipo di ricognizione. L'articolo 11 è quello che invece appunto sostanzialmente potrei anche non leggere perché insomma l'ho riassunto in precedenza, lettera A, non possono essere adottati nuovi PRG o varianti PRG vigenti se non si è verificato che appunto siano stati quelli attualmente vigenti, siano stati attuati per almeno il 75% in termini di edificazione, quindi non di superficie, proprio di previsioni edificatorie realizzate e possono sempre essere, ecco questo non l'avevo detto ma pure è importante e ripeto esistono dei casi in cui è stato fatto, possono sempre essere adottati nuovi PRG o varianti dei PRG vigenti se finalizzati alla riduzione delle previsioni di espansione delle aree edificabili, ovvero al recupero di aree urbane dei recadati. Allora questa cosa che sembra, può sembrare fantasiosa, in realtà mi risulta, lo dicevo già in una delle precedenti comunicazioni che ho svolto qui per IFEL, allora intanto c'è da dire una cosa, voi sapete che i proprietari di aree pagano l'IMU sui terreni edificabili, in questo momento possiamo pensare che stiano meglio di molti di noi, però hanno un problema, quindi tendenzialmente per effetto della crisi avrebbero anche l'interesse a non pagare più l'IMU, mi risulta che a Reggio Emilia, non so comunque in Emilia, effettivamente si è proceduto a un piano in riduzione, perché siamo in una congiuntura in cui tutto sommato c'è anche un interesse a uscire dal piano in questo momento, tanto voglio dire, gli imprenditori che sono più smalizzati di noi, sanno che da un piano si può uscire e eventualmente anche rientrare, perché i piani si fanno e si rifanno, in questo momento l'interesse c'è ad uscire, perché io conosco un po' meglio la realtà romana, ho anche, lavoro anche per committenze private, so benissimo che c'è una fortissima resistenza a intraprendere iniziative di qualunque tipo, quindi diciamo da un punto di vista dell'esigenza di contenere il consumo di suolo, ci sarebbero delle condizioni assolutamente favorevoli, di fatto appunto ce lo testimonia questo anche il fatto che la tendenza è in diminuzione, non abbastanza, non quanto vorremmo, quanto vorrebbero alcuni forse più di noi, ma insomma c'è questa tendenza e quindi è sempre possibile, si potrebbe sicuramente intervenire anche attraverso gli strumenti di pianificazione che tendenzialmente non sono molto considerati, vedo che però almeno in questo testo che citavo appunto della bozza di norma nazionale, si dice che i criteri, per definire i criteri e la misura quindi degli obiettivi di riduzione del consumo si dovrà tenere conto in particolare delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli, ecco perché va anche detto che non tutti i suoli sono uguali, in alcuni casi sono suoli molto importanti dal punto di vista agricolo, la cui perdita è grave, quindi è diverso costruire su un terreno arido piuttosto che su un terreno già impegnato per culture di qualità, se non altro dal punto di vista economico del volo dei terreni. Quindi tenendo in considerazione le loro funzioni ecosistemiche, le produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, dell'estensione e localizzazione dei suoi agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica. Un po' in conclusione però si tiene conto di questo. Ora a me verrebbe da pensare che non è che voglio fare il piccolo legislatore, ma ad esempio si potrebbe iniziare a considerare proprio, ripeto parlo di cose che conosco, nel Lazio moltissimi strumenti urbanistici ancora vivigenti sono degli anni 70 e sono, lo possiamo dire con certezza, sono sicuramente sovradimensionati. Ebbene, io francamente cercherei, mi porrei l'esigenza di porre mano perché quelle previsioni edificatorie sono teoricamente sempre possibili e spesso lo diventano, ripeto, per interessi non locali ma per esigenze di cui in parte accennavo in precedenza. Viceversa sarebbe molto corretto, secondo me, rimettere mano anche a quegli strumenti perché oggettivamente alcune esigenze non sono necessarie. Anche nella individuazione che si fa nella legge, addirittura la prima versione della disegno di legge Catania definiva agricoli tutti i suoli non utilizzati per l'edificazione, quindi anche le aree per servizi, c'era una prima versione, mi pare anche alquanto problematica dal punto di vista della possibilità dei ricorsi che avrebbe generato, ma ad esempio si potrebbe ipotizzare che le aree per servizi all'interno della perimetrazione del centro abitato possano avere un certo destino, perché stiamo parlando di aree almeno in contesti di città compatte, perché in genere la perimetrazione dei centri abitati ha comunque legata alla forma effettiva dell'insediamento e che ne so, se ne posso immaginare tante, ripeto, non è il mio compito oggi, mancano 4 minuti, in teoria mancherebbero una decina di slide, quindi a questo punto vado rapidissimamente per citare il caso, forse ce la faccio in questi 4 minuti residui, per citare il caso del piano territoriale provinciale generale della provincia di Roma, a cui appunto io ho anche potuto lavorare e quindi diciamo questo piano è interessante perché siamo nel 2010, è iniziato a elaborare molti anni prima, quindi in assenza di qualunque neanche ipotesi di regolamentazione, però per è un piano che considera il tema del consumo di suolo attraverso meccanismi, sia diciamo come dire previsioni tipografico che previsioni tiponormativo, ad esempio individuando una cosa che si chiama campo preferenziale di sviluppo degli insediamenti, cioè intanto fanno, prima del campo preferenziale, voi vedete A, B e C in leggende, molto piccola, ma insomma intanto da una gerarchia decente, perché appunto forse a Roma c'è ancora bisogno di consumare suolo in relazione ad alcune necessità legate al ruolo di capitale, al ruolo che occupa nella struttura del territorio regionale e quant'altro, magari in altri casi no, nel senso che piccoli centri o centri che non hanno forti dinamiche turistiche, probabilmente si potrebbe pensare di intervenire in altro modo. Quindi intanto da una gerarchia e stabilisce per, a secondo del ruolo gerarchico che ogni centro riveste nell'ossatura regionale, provinciale, scusate, delle possibilità di sviluppo o delle ipotesi di sviluppo. Il piano faceva salvi i piani precedenti, quindi da questo punto di vista può avere dei limiti, perché spesso questi piani, come abbiamo detto, sono sovradimensionati, ma in qualche modo, quindi per via di gerarchia, considera anche questo elemento e in alcuni casi, nei casi dove secondo una serie di analisi che furono fatte, c'è un rapporto territorio molto corposo di 9 volumi che analizza le possibili necessità strutturali della provincia, definisce questo campo preferenziale, il campo preferenziale è quindi una delimitazione elastica in qualche modo, è un confine che poi richiede di essere precisato a livello di piano comunale, però è un confine, che considera intanto tutto quello che è già negli strumenti urbanisti, c'è in alcuni casi ipotizzando le possibili linee di espansione, però lo fa evidentemente tenendo conto anche dell'altro contenuto fondamentale di quel piano, che era tutto il ragionamento sulle reti ecologiche, quindi almeno le due dimensioni erano state pensate insieme. Questa è la leggenda che almeno è ingrandito, in altre situazioni, quindi sono due questioni, il campo preferenziale, forse è la freccetta che mi dimentico sempre, questo è il campo preferenziale di cui vi dicevo prima, in alcuni casi c'è proprio un limite che è ulteriormente graficizzato di contenimento degli inserimenti, come vedete in alcuni casi si precisa la necessità di mantenere per questione di funzionalità ecologica la discontinuità, cioè delle aree righe di discontinuità evitando i fenomeni di saldatura che sono molto gravi se si verificano, si concretizzano. La norma invece dal punto di vista delle norme, ce l'ho un minuto o due minuti per chiudere, dal punto di vista delle norme cosa si fa? Si stabiliscono dei coefficienti, ad esempio in alcune situazioni come quelle, un caso di scuola che purtroppo qui ho tagliato, quello a Velletri, Velletri è un comune del Lazio che ha una utilizzazione diffusa del territorio, è proprio un caso da manuale, perché è proprio lo sprawl fatta a persona diciamo, intanto quella realtà esiste, allora cosa suggerisce il piano? Suggerisce intanto le misure banali, tenete conto che con l'approvazione del piano territoriale provinciale, per quello che era un meccanismo della legge del Lazio, la provincia ereditava la competenza, di fatto doveva ripartire una stagione di pianificazione con i nuovi strumenti, proprio perché questo passaggio dalla regione alla provincia avrebbe comportato la necessità di riadeguare gli strumenti in ossequio alle indicazioni del piano provinciale, che però era stato condiviso con gli antilocali. Insomma, nel caso di Velletri si dice, vabbè, allora nelle azioni di riordino che prevedono il fatto che voi dobbiate perimetrare l'insediamento abusivo e finché non fate quella perimetrazione non potete fare varianti ai vostri piani, perché insomma quelli ci stanno, ora negare che ci siano, è chiaro che poi entrano nel conteggio al dimensionamento di piano invece. Allora si disponeva la necessità, ad esempio per Velletri, ma anche in altre situazioni, di accrescere gli indici, cioè il nuovo piano avrebbe dovuto prevedere in zone già esistenti un aumento degli indici, proprio perché invece l'indice attuale, la densità attuale dell'abitato in alcune parti, soprattutto è molto molto bassa. Quindi una misura a fine molto simile a quella che in Francia hanno fatto per via di governo. Ripeto, la pianificazione ha questa possibilità, ce l'ha secondo me anche in presenza di una norma statale qualunque essa sia, perché non è pensabile che il fenomeno venga regolato semplicemente imponendo un divieto per legge, ma poi richiede invece delle azioni di divulgazione, un'attuazione concreta in cui anche la pianificazione e i comuni, quindi gli enti locali in questo, hanno un ruolo molto molto importante. È la prima volta che mi accade, ho sforato i due minuti, chiedo scusa a tutti, spero di essere stato chiaro, mi sono molto impegnato nella produzione di questa presentazione di oggi, è stato un lavoro molto interessante e mi ha permesso anche di recuperare cose che avevo raccolto nel tempo e spero che vi sia utile. Buon a questo punto pomeriggio e se ci sarà occasione ad una prossima volta. Benissimo, allora io a nome di Ifel e dell'Anci ringrazio il nostro relatore, ringrazio tutti i partecipanti per essere stati con noi, vi abbiamo inserito nella nostra chat il link diretto per scaricare i materiali, a partire da domani quindi slide, registrazione e video saranno a vostra disposizione. Un saluto a tutti e vi auguro un buon pomeriggio. Arrivederci e grazie. Grazie.